Cinque condanne, appena comprese tra un anno e sei mesi e due anni di reclusione, sono state chieste dalla procura di Bari per gli imprenditori accusati di aver speculato sull'emergenza covid, fornendo alle ASL pugliesi nel marzo 2020 mascherine protettive a prezzi salatissimi. Le pene più alte sono state chieste per Romeo Matteo Fumagalli, legale rappresentante della Sterimed, con sede a Surbo, nelle Cese, e per Massimiliano Aniello De Marco, legale rappresentante della Servizio Ospedalieri di Ferrara. Ai due sono stati contestati reati di manovre speculative su merci, tentata truffa aggravata e frode in pubbliche forniture. Per loro la procura barese ha chiesto anche il pagamento di una multa da 500 euro. Per i fratelli Gaetano e Vito Davide Canosino, della 3MC SPA e della Penta SRL di Bari, e per Elio Rubino, dell'AS Hospital, sempre di Bari, è stata chiesta invece la condanna a un anno e sei mesi e il pagamento di 300 euro di multa. In base a quanto emerso nel corso delle indagini condotte dalla Guardia di Finanza durante una delle fasi più critiche dell'emergenza sanitaria, sarebbero stati stipulati con le aziende sanitarie pugliesi contratti per le forniture di centinaia di migliaia di mascherine FFP2 e FFP3, con rincari saliti fino ad oltre il 4.000%. Sovrapprezzi via via sempre crescenti applicati nel corso dei diversi passaggi della filiera commerciale, arrivando a far pagare più di 20 euro una singola mascherina del valore di poche decine di centesimi. Nel corso della requisitoria il procuratore barese Roberto Rossi ha sottolineato come quei dispositivi fossero, in quel momento, necessari per la vita delle persone e di come l'operazione di vendita di Sterimed e servizi ospedalieri, che non avrebbero avuto le mascherine promesse al momento della stipola del contratto, fosse un'operazione speculativa ai massimi livelli. Nel corso delle prossime udienze verranno ascoltati i difensori degli imputati. Grazie a tutti.